Allora Silvio, qua bisogna decidersi, l'Italia ha bisogno di un governo forte, di certezze e di una nazione, anzi nazionale, decennale. Che vogliamo fare? Non mi dimetto, non mi dimetto, non mi dimetto. O Silvio, ma che tu dici? Ti sei già dimesso? Mi sono dimesso? Ma chi l'ha detto? L'ho letto stamane sul televideo. Ah certo, perché lui lo legge sul televideo. Dicono tu fai il rimpasto, infatti la Franca ha appena sentito sta parola, si è messa subito in cucina a lavorare la pasta con la forza di cento braccia per fare la cecina. Ah la cecina, la farinata. Questa è tipica propaganda comunista. E adesso cosa vogliono che io faccia? Ma fai un bel Berlusconi, viss? E come si fa? Questa è proprio una bella domanda, e che ne so io? Eh certo, io ne so lui. Ma io resto presidente? Non lo so mica. Senti Silvio, facciamo sì. Adesso te tu vai a casa, ti fa una bella doccia, intanto io mi fò le consultazioni e cerco di aprirci qualcosa. Appena ho una soluzione ti mando un messaggine.